YouPoll, l'app antibugli e spaccio, diventa disponibile anche per gli utenti sordomuti. L'applicazione della Polizia di Stato consente infatti da adesso di selezionare l'opzione non udenti. La sala operativa saprà quindi che per comunicare eventualmente con la persona che sta effettuando la segnalazione non dovrà utilizzare un sistema vocale. YouPoll è scaricabile da Google Store o dagli altri negozi di applicazioni e si scarica sul proprio cellulare e si opziona poi la spunta per persona sorda e in quel caso sarà possibile inviare un messaggio alla nostra sala operativa e verrà preso in carico e gestito come qualsiasi altra richiesta di intervento. Questo è molto importante perché le persone sorde possono essere autonome in qualsiasi momento di difficoltà, l'abbattimento delle barriere. L'autonomia significa essere come le persone udenti, cioè autonome quanto loro e l'applicazione dà questo. Noi diventiamo autonomi in questo, in qualsiasi situazione di emergenza, di bullismo, se vediamo anche dello spaccio, possiamo noi segnalare. O se succede a noi stessi, con la messaggistica siamo autonomi, non siamo costretti a chiamare un'altra persona per cose che ci riguardano. È sempre meglio essere autonomi. YouPoll garantisce la geo-referenziazione, ossia la localizzazione esatta ed immediata dello smartphone o tablet utilizzato e del luogo interessato dall'evento in collegamento diretto con la sala operativa delle questure. Attraverso l'app è possibile denunciare episodi di cui si è testimoni diretti anche attraverso foto e video. Infine è possibile effettuare anche chiamate di emergenza. In alcuni casi sono state situazioni inappropriate che vengono comunicate alla sala operativa, però in altre situazioni invece si è rivelato un utile strumento di indagine.